Ciao amici sono Lox, bentornati su Infatti le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Secondo video della Serie B delle partite di ieri sera, come sapete purtroppo questo weekend sono già in clamoroso ritardo, però cerchiamo di recuperare, parlo di Cremonese contro Bari, ovvero quella che è stata una grande vittoria del Bari. 1-0 il punteggio, una vittoria da grande squadra, perché questo Bari sta venendo su veramente molto bene. Era una partita difficilissima per gli amici Mignani sul campo di una squadra appena retrocesso della Serie A, una squadra sulla quale ho ancora qualche perplessità, credo che questa ultima settimana di mercato per la Cremonese sia molto importante, perché è una squadra da puntellare, è una squadra che ha giocato una partita molto poco appariscente da Cremonese e non ha sfruttato soprattutto un avvio di calendario che vedeva due partite casalinghe, perché il Catanzaro settimana scorsa e ora il Bari, Bari che era in una versione in difficoltà sulla carta, perché gli infortuni di Menez, e mi dispiace molto perché avevo espresso qualche dubbio questa estate sul suo acquisto, però mi sarebbe piaciuto vederlo in campo, il fatto che si sia già infortunato è veramente un peccato, l'infortunio di Dio e poi i regali lasciati dal disastroso Maresca di settimana scorsa, ovvero le squalifiche di Maite e di Cesare. Era un Bari quindi un po' rimaneggiato, ma Mignani è stato come sempre bravissimo, io trovo che sia un allenatore strepitoso, ha messo in campo la squadra molto bene da un punto di vista tattico, ma soprattutto il Bari, questo Bari, è già una squadra. Mi è piaciuto molto lo speso di collaborazione che ho visto da parte dei giocatori ieri con la casacca bianca, che hanno giocato davvero d'insieme, hanno saputo tenere a bada gli attacchi della Cremonese, che di fatto con l'assenza della punta ora verrà acquistato coda, e con questo si spera, spero per la Cremonese che verrà risolto un problema lì davanti, perché è partita con un basket in posizioni da punta o pseudo tale, qualche bella combinazione con buon aiuto, ma di fatto anche nel primo tempo la Cremonese non è che abbia avuto grandissime occasioni da rete, anzi l'occasione più grossa, che penso sia anche il rimpianto principale della gara della Cremonese, l'ha regalata tra virgolette il Bari con un errore in fase di impostazione di Zuzze, che ha liberato buon aiuto, che ha avuto una grande chance davanti alla porta, ma ha messo il pallone fuori. Il Bari sta crescendo anche difensivamente, ho trovato piuttosto sicuro la prestazione di Brenno, un portiere che sicuramente non è Caprile, l'ho già detto la settimana scorsa, il Bari dell'anno scorso è stato fantastico, era una squadra che mi divertivo tantissimo a vedere, ora questo è un altro Bari, ma quello che trovo che si sia confermato un anno con l'altro è proprio un sentire comune della squadra, un gruppo comune, una voglia di arrivare al risultato da un punto di vista di squadra, prima ancora che da un punto di vista individuale. il Bari ha trovato il gol vittoria con quello che è uno dei giocatori di quali sono più innamorato, chi mi segue nel canale lo sa, perché ho sempre seguito anche le gare del Pisa, Sibilli è un giocatore di talento straordinario, e proprio lui ha trovato il gol vittoria in chiusura di primo tempo, con una bella conclusione, in un'azione nella quale un po' tutto il Bari ci si è messo, tra cui Benali, altro giocatore che mi piace molto anche ieri, autore di un'ottima prestazione, e soprattutto Moracchioli, Moracchioli all'interno dei giovani, voi sapete sempre il mio assioma, giovane per forza no, ma giovane se è capace, se è valido ne vale assolutamente la pena, Moracchioli molto bene, una buonissima prestazione, il passaggio in mezzo all'area che ha liberato Sibilli, in un'azione di rimpalli, comunque un'azione un po' confusa, ma la rete di Sibilli che poi il Bari ha difeso nel secondo tempo, nel quale Ballardini ha fatto l'unica mossa che aveva senso fare, ovvero mettere finalmente un centro avanti per cercare di creare qualche quesito, qualche difficoltà alla difesa del Bari, però anche è entrato Ciofani, idolo assoluto di una grande carriera con la maglia del Frosinone, e ora con la maglia della Cremonese, però Ciofani ha creato pericolosità, forse più da un punto di vista ipotetico che poi pratico, perché alla fine credo che il giocatore migliore della Cremonese sia stato un altro dei subentrati nel secondo tempo, ovvero Pickel che con i suoi inserimenti da dietro si è reso più volte pericoloso nel finale, quando il Bari però è riuscito più volte, senza grandissime neanche sofferenze, a respingere gli ultimi assalti a vuoto della formazione grigiorossa, che ripeto mi ha francamente deluso nella prestazione di ieri, è una squadra che trovo debba ancora crescere molto, vedremo cosa succederà in questa ultima settimana di mercato, Cremonese che ora è attesa peraltro dalla trasferta a Terni, partita che potrei andare a vedere dal dovrei, se riesco a finire l'organizzazione, andare a vedere dal vivo contro la Ternana, e poi arriva anche la Sampdoria, Sampdoria ferita dalla brutta sconfitta casalinga contro il Pisa, momento delicato per la Cremonese, io ho espresso una perplessità anche sui mister Ballardini, bravissimo quando si tratta delle missioni impossibili di salvare la squadra, bisogna vedere un po' nella costruzione invece di una squadra, che logicamente da, essendo una neoretrocessa dalla Serie A, probabilmente può avere come ambizione quale di andare a ritornare nel campionato di Serie A, viceversa per il Bari, davvero una prova incoraggiante, da un punto di vista di squadra, da un punto di vista strategico, da un punto di vista di risposta da uomini, di un gruppo vero che già c'è anche in assenza di leader importanti, come di Cesare e Maita per esempio, un gran bel Bari, un Bari che quindi va seguito, va tenuto sotto controllo, perché può essere un'altra grande stagione, e spero che magari possa avere una conclusione diversa di quella dello scorso anno, ora cittadella in casa, e poi anche per il Bari c'è la trasferta sul campo della Ternara. Molto bene Vicari, che anche senza il maestro di Cesare, è stato lui leader di questa linea difensiva, dove Zuzek si eccede con l'errore di cui vi ho parlato poco fa, per il resto ha giocato comunque una buona partita, mi è piaciuto il centrocampo, mi è piaciuto il passaggio al mio modulo preferito, al 4-4-2, che trovo il modulo che schiererei in qualsiasi formazione, Nasti lì davanti, Nasti è un giocatore di grande talento, di grande voglia, l'unica cosa, l'avevamo già notato, l'avevo già notato lo scorso anno, con Cosenza, un po' questo atteggiamento, un po' da sbruffone, magari delle volte anche nei confronti degli arbitri, qualche gestualità di troppo, ecco, spero che in questo magari riesca a fare un passo in avanti, e a rimanere un po' più sotto controllo, perché sapete, gli arbitri sono molto attenti a questi dettagli, potrebbe rischiare anche di prendere magari cartellini gialli, per nulla nel corso della stagione. Vado con le pagelle, poi attendo i vostri commenti. Per la Cremonese, sei al portiere Sar, di fatto per il resto abbastanza inoperoso, perché comunque il Bari tolto il gol, ha avuto qualche buona occasione, ha giocato una buona partita nel complesso, però non è che abbia costruito, ma non aveva neanche bisogno, poi, grandi occasioni, specie nel corso della ripresa. Sei a Ghiglione, cinque e mezzo, un nervoso Bianchetti, sei a Ravanelli, sei e mezzo a Quagliata, altro giocatore che non mi è dispiaciuto con la maglia della Cremonese, cinque e mezzo a Collocolo, giocatore ottimo, ma ancora un po' in difficoltà e poco appariscente, cinque e mezzo a Bertolacci, cinque e mezzo a Brego, cinque e mezzo a Zanimacchia, cinque e mezzo a Vasquez, non sono, a mio avviso, insufficienze secche, prestazioni totalmente insufficienti, ma non sono state certamente prestazioni da ricordare per tutti questi ragazzi, sei a buon aiuto, dei subentrati, Ciofani così così, anche Ghianno mi ha convinto molto, mi ha convinto invece Picchia, il cinque e mezzo a Ballardini, per quanto riguarda il Bari, sei e mezzo a Brenno, come detto, che vedo molto più, già rispetto a settimana scorsa, coi piedi magari qualche indecisione, chiedo scusa, indecisione, ma meglio nelle uscite alte, se a Dorval, sempre esplosivo, anche quando è entrato Puccino e si è avanzato avanti, si è avanzato sulla linea dei centrocampisti, ha fatto comunque bene, sei a Giusec per quell'errore, se no sarebbe stato sei e mezzo, sette a Vicari, sei a Ricci, sei e mezzo a Benali, sempre veramente un gran bel giocatore all'inmezzo al campo, sette a Maiello, magari oscuro a tratti, ma un gran lavoro per lui, sei e mezzo a Bellomo, altro giocatore che adoro, sette a Sibili, sei e mezzo a Nassi, sette a Boracchioli, sette a Mignani, positivo l'ingresso di un altro mio grande idolo, Puccino, che ha tirato una punizione orribile, quando ha avuto l'occasione in zona d'attacco, ma per il resto dal punto di vista difensivo è stato molto valido, sei a Prontera, 19 falli, 4 ammuniti, qualche volta qualche atteggiamento un po' sopra le righe, ma nel complesso un arbitraggio che credo sufficiente, grazie ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, con la Serie B l'appuntamento è a stasera, quando vi parlerò di Ternana contro Catanzaro, io vi ringrazio, iscrivetevi, alla prossima, ciao a tutti, un bacio da Loxi.